ciao a tutti e bentornati sul canale se avete visto il mio ultimo video sapete già che il mondo dei droni è pieno di fermento incredibile e ovviamente sto parlando dell'uscita imminente del dj neo vi lascio qua il link di quel video se lo volete vedere ma oggi voglio parlarvi di qualcosa di altrettanto eccitante ho raccolto delle informazioni molto più che semplici speculazioni praticamente vi racconto il nuovo modello over il successivo a lui che sta per uscire e che vi racconterò anche questo a breve e ovviamente sto parlando del nuovo over x1 pro e la versione pro max che non è iphone pro max ma è over pro max presto ve lo farò vedere dal vivo ovviamente nel canale e lo confronteremo ovviamente con l'altro che sta arrivando ovvero gli abbiamo detto dj neo e dunque prima di immergerci nelle caratteristiche di questi nuovi gioiellini beh vi chiedo di lasciarmi un bel like al video di condividerlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei miei futuri aggiornamenti e test sul campo e sì perché qui dal big ci sarà da divertirci nelle prossime settimane perché ovviamente vedremo a brevissimo il nuovo over vedremo a brevissimo il nuovo dj neo e dunque ragazzi non non potete che non seguire i big già da un mese avevo il sospetto che over stasse lavorando su qualcosa di grosso ma non era proprio un sospetto diciamo era qualcosa di più concreto nuovo oltre e finalmente beh posso adesso confermarvi che stanno accelerando i tempi di uscita per il nuovo over x1 pro probabilmente per anticipare ovviamente il lancio del dj neo e ragazzi un tempismo perfetto questo nuovo drone si preannuncia come un vero e proprio gioiellino e capirete perché ovviamente ma non voglio fermarmi solo alle parole ho trovate in rete alcune immagini che stanno facendo il giro del web e ovviamente ve le mostro subito eccolo qua il nuovo over x1 pro è in tutto il suo splendore è già dalla prima occhiata si capisce che over ha puntato su un design ancora più raffinato una costruzione più robusta e capirete il perché adesso ci arriviamo è pronta a sfidare qualsiasi terreno e loro ufficialmente nel loro sito web hanno lanciato questo dunque hanno già lanciato di fatto il l'avvio del prodotto come vedete già si vede il nuovo drone si vede i dettagli del nuovo piccolo drone per cui ci già ci fa capire come sarà e le qualità che avrà ovviamente ci chiede ovviamente di lasciare una mail ma attenzione sotto questo questa immagine c'è una piccola una piccola novità che ci lascia davvero a bocca aperta e vi spiego ovviamente in questo video guardate se io ci faccio un bel clic sopra eccolo qua ci appare il drone nei suoi dettagli e qui riesco a farvelo vedere decisamente bene poi affronteremo anche questo aspetto qua ma non è solo il drone ma ragazzi ci sono tutta una serie di caratteristiche dell'x1 pro che andremo a analizzare vi spiegherò ovviamente durante questo mio contenuto dunque di fatto ci danno già diverse informazioni interessanti direttamente dal sito iniziamo subito con le caratteristiche che ovviamente che sono emerse e che quasi sicuramente saranno quelle che vedremo a brevissimo l'over x1 pro misura 149 x 173 x 39 millimetri e pesa il nuovo over pesa 192 grammi questo rappresenta un leggero momento rispetto al modello precedente ovvero l'over air x1 che ne misura 127 x 145 x 30 e pesa abbastanza meno diciamo e pesa 125 grammi con 392 e queste nuove dimensioni beh permette però una maggiore stabilità stabilità in volo è una costruzione più robusta e tante caratteristiche molto interessanti iniziamo con le prestazioni di volo il tempo massimo di volo è stato esteso decisamente esteso a 16 minuti tutto grazie a una batteria più capiente da 1920 mAh contro appunto quelli che erano gli 11 minuti e mezzo di lui un equilibrio perfetto tra leggerezza e durata mantenendo la classe di peso sotto 250 grammi e dunque ancora un prodotto marcato c zero senza usabile senza l'obbligo del patentino la velocità massima in auto follow è stata migliorata decisamente 42 chilometri orari con una velocità di tracciamento istantanea fino a 60 chilometri orari cioè segnatevi questi dati che sono incredibili e sono molto superiori rispetto ai 7 metri al secondo circa 25 chilometri orari di over x1 che è già fantastico ma praticamente lo doppia inoltre è aumentata anche la resistenza al vento ovviamente aumenta il peso è stata potenziata fino a un livello 5 è capace dicono di affrontare 20 fino a 10,7 metri al secondo rispetto al livello 4 del modello precedente con una nuova capacità di raggiungere leggo i 5.500 metri alla faccia e che passo da luna però detto questo e sarà un direzione un po' generica comunque sembra over x1 però sul classi decisamente questo modello a livello di distanze e di altitudine dunque avremo una possibilità di guidarlo molto più distante non vi so dire se avrà montato a bordo un gps e prestissima però questa una delle poi notizie che non ho la ovviamente la verificheremo parliamo di fotocamera e stabilizzazione la fotocamera ecco quella del mio over over x1 è dotata ovviamente la camera del prossimo che arriva ad un sensore cimmosse da mezzo pollice può registrare attenzione video fino a 4k a 60 fps tanta roba e 1080p a 120 fps un upgrade sostanziale rispetto a 2704 per 1520 a 30 e 1080p a 60 di lui anche la stabilizzazione dell'immagine che combina la tecnologia meccanica con l'elettronica proprio come succede per questo piccolino è ancora migliorata e devono essere ancora più efficace era già vi assicuro perfetta chi segue il canale l'ho visto e chi ha questo drone lo sa è davvero fantastica una delle novità più interessanti la tecnologia omni terrain che permette al drone di operare di volare in superfici come sull'acqua sulla neve e cosa che il mio amico vincenzo lo sa era un problema a farsi seguire sulla neve sulle scogliere e lo rendono a questo punto un compagno ideale per qualsiasi avventura outdoor abbiamo poi il rilevamento attivo delle collisioni il nuovo sistema di rilevamento attivo delle collisioni riguarda la parte posteriore del drone è un'aggiunta fondamentale per chi opera in ambienti stretti o con molti ostacoli questa è una funzionalità che over air x1 non aveva per esempio e che migliora notevolmente la sicurezza del volo lui seguiva esattamente dove noi passavamo senza nessun sensore era un volo ottimale ma funzionava esattamente così adesso si mettono sensori sul dietro beh come già menzionato la velocità di tracciamento e l'auto follow migliorati rendono questo nuovo drone l'over x1 pro adatto anche agli utenti più esigenti che necessitano di riprese a velocità maggiore con una moto con la bicicletta in modo più veloce e una precisione sembra fantastica non vedo l'ora ragazzi di testarlo e di portarlo nel canale per farvelo vedere e va sicuro che a breve lo avrò tra le mani non mi fate dire altro ritorniamo ora sul sito ufficiale sulla pagina di over air e ritorniamo ovviamente vedete non ho affrontato questa cosa all'inizio l'affronto ora vedete questo è tutto in chiaro e abbiamo visto i dettagli e abbiamo parlato delle caratteristiche x1 pro ma come potete vedere ci sono tutta una serie di accessori qui sembrano borse custodie forse questo è un sistema per caricare le batterie queste sono batterie ma abbiamo anche x1 pro max che come state vedendo non è non è non è chiaro è completamente sfogato e cliccando qua sopra mi apriva la caratteristica x1 pro e beh allora significa che x1 pro max ha delle caratteristiche probabilmente ancora migliori e andando a cliccare la presentazione è prevista per domani tornate più tardi ciò significa che abbiamo novità anche per questo x1 pro max over air ci promette delle cose ancora forse migliori per quanto riguarda questa versione dunque beh vi rimando ovviamente nel canale perché nel canale anche o con un video con uno short vi spiegherò alcune nuove cose anche su di lui e dunque che dire questo drone in conclusione è un drone davvero innovativo era già innovativo lui ma questo aumenta se vi vediamo insieme le immagini vi faccio vedere ecco l'immagine del drone guardate nella parte diciamo superiore del drone esisteva prima adesso passo qui vedete esisteva questo questa plancetta con tutte le icone da cliccare muoversi spostandosi ovviamente con il si accendeva da qui e con il direttore andavamo a spostare e lui ci raccontava qual era la versione in cui noi ci stavamo spostando adesso ritornando sull'immagine vedete c'è un piccolo sensore non so cosa sia un tipo un touch sembra non lo so forse qualcosa solo di belluria o di insomma di estetia diciamo un miglioramento dell'estetia ma abbiamo questo piccolo questo piccolo tasto con vedete un selettore laterale destra sinistra probabilmente che ruota e la parte centrale il tasto centrale che sarà sicuramente questo che ci farà muovere se non vogliamo usare assolutamente lo smartphone per volare ovviamente le varie selezioni ovviamente delle delle varie opzioni che ci offre io vi dico che io uso quasi sempre lo uso sempre con il cellulare acceso semplicemente perché per sicurezza e per regola così lo possiamo fermare in caso di periodo e qualcuno me l'aveva scritto per il dj neo e cose non sapremo come funziona e non solo perché mi registra l'audio e l'audio è fondamentale quando faccio contenuti ovviamente è qua nel canale beh in conclusione il nuovo over x1 pro e la versione pro max si presentano come un upgrade molto significativo rispetto alla già incredibile eccellenza che è questo piccolo dronetto air x1 miglioramenti in termini di qualità video durata la batteria resistenza al vento nuove funzionalità distanze di volo queste nuove appunto possibilità di volo in particolare zone tipo la neve come questo omni terreno e rilevamento delle collisioni beh diciamo che è un drone che è pronto sicuramente a conquistare il mercato e ci sarà una bella lotta con neo non vedo l'ora di metterli alla prova di mostrarvi tutto ovviamente nei prossimi video quindi assicuratevi di iscrivervi al canale accendete la campanella delle notifiche commentate qui sotto cosa ne pensate delle novità e lo vedremo ovviamente insieme al piccolo dj li confronteremo e faremo tanti video nel canale dunque non vi resta che seguire il canale di tecnologia attualità e droni del bigger ciao alla prossima